Stavo pensando a cosa chiederei durante l'intervista, questo progetto è avvolto da un'ora di segretezza assurda. Quindi possiamo dire che cosa non è questo film? È un film di fantascienza e l'ultima volta li avevamo lasciati nello spazio, se ben ricordo. Cosa è che non è questo film? Non è un film horror, non è un film di fantascienza, non è un western, non è neanche un film introspettivo. È una classica commedia. Li vedremo alle prese con un bambino, se ho ben capito, sarete degli educatori e pensate che vi aumenterà la voglia di paternità? Assolutamente no, nel mio caso la diminuirà ancora di più. Ogni volta che vedremo un bambino, che fortuna che non ne ho mai avuto. È un bambino grande, ha 9 anni, per cui a 9 anni si può parlare di tutto, è un ragazzino più che un bambino. Per cui è un'interazione un po' più facile rispetto a un bambino molto piccolo.